Il carico fiscale cui siamo soggetti, balletto indecoroso di un governo che aggiunge incertezza quanta già non ce ne sia. Governo incapace di aggregare i comuni, superare i limiti delle province, piegato alle lobby delle banche europee e che pensa solo a nove elezioni, così il numero uno degli industriali trevigiani. Sulla fiscalità un balletto indecoroso, sì, è un termine che faccio mio, perché anche quello crea incertezza. Il povero cittadino che non sa quali imposti deve pagare, perché il cittadino nell'incertezza di quali imposti deve pagare mette da parte i soldi e li tiene lì, quindi non consuma. Nell'analisi economica di Vardanega ancora non si parla di ripresa, bensì di stabilizzazione. La caduta, dice, si è arrestata. Possibile che non si possa incentivare chi fa assunzioni, possibile che non si possa incentivare fiscalmente chi crea investimenti, chi crea quindi la base occupazionale. Ma per ripartire anche le aziende devono fare la loro parte, puntando a incrementare la qualità dei prodotti. Infine, un pensiero a questo suo ultimo semestre di mandato e al suo possibile successore. Una donna conclude, perché no? L'importante è che chi viene alla guida dell'associazione abbia la passione per questo lavoro.